Il titolare di un circolo di tennis e padel è stato multato dai poliziotti della divisione amministrativa della Questura per non essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza necessaria per l'organizzazione di serate ed eventi ed è stato anche denunciato in procura per non avere osservato le disposizioni delle autorità, visto che la Questura lo aveva già diffidato a svolgere attività imprenditoriali non autorizzate. Gli investigatori in una delle scorse serie hanno eseguito un controllo all'interno dell'attività. In quel momento era in corso di svolgimento una serata danzante con tanto di postazione per la diffusione musicale e sul posto erano presenti circa 80 persone, alcune delle quali non tesserate, nonostante l'ingresso fosse riservato ai soli soggi. I poliziotti hanno eseguito anche una serie di controlli in altre attività e secondo quanto accertato dagli investigatori si sono registrati numerosi casi di titolari di bar, ristoranti e pizzerie che per assicurarsi maggiori guadagni, organizzano eventi musicali dal vivo pubblicizzandoli sui social network senza essere in possesso della necessaria licenza di pubblica sicurezza, violando così le attuali disposizioni di legge e anche in questi casi sono scattate le diffide.